Oggi voglio parlare di una specie terrestre tanto bistrattata, ingiustificatamente secondo me, l'elettore italiano. Attualmente questa specie in via d'estinzione è composta dalla stragrande maggioranza di astenuti, che alle ultime elezioni regionali è stata del 60% degli elettori, tantissimo, e non è un caso perché gli astenuti in Italia sono sempre più in crescita. Questa maggioranza è sempre derisa, devi andare a votare, altrimenti non cambierà mai nulla. Il punto è proprio questo. Questa maggioranza non va a votare perché ha capito che qualsiasi cosa venga promessa in campagna elettorale, a prescindere dal programma elettorale illustratoci, poi alla fine chi va al potere non fa una beata cippa. Quando andrò al potere io, l'Europa dovrà cambiare atteggiamento, l'Italia sarà il centro dell'Europa. Siamo passati dal in Europa ci faremo rispettare ad una strofa di una delle canzoni più famose esistenti italiane. Cara Europa, come prima più di prima ti amerò. Tu palle con sta storia dell'agenda Draghi sbagliata, ma precisamente l'agenda Meloni che differenza ha? La calligrafia! Solo quella forse, diciamo la verità. L'agenda Meloni è il generico dell'agenda Draghi. Il nome è diverso, ma gli effetti collaterali sono sempre gli stessi. Alla fine, a noi, c'è brucia sempre il culo. I politici italiani sono riusciti perfettamente nel loro intento di motivare gli elettori. Tanto se va a votare il 10% degli elettori, loro sempre gli stessi soldi prendono, eh? Mica prendono il 10% dello stipendio. Eh no, e così è troppo facile. I politici italiani sono i più pagati al mondo per ottenere questo grandissimo risultato. A me fa molto ridere. È come se un'azienda assumesse un dirigente pagandolo con lo stipendio più alto al mondo per far fallire l'azienda. Un capolavoro! E noi gli facciamo pure i complimenti, eh? Bravi tutti! È finita la pacchia! Che poi sembra una barzelletta, ma è quello che succede realmente con le aziende italiane. Vedi Alitalia, Telecom, e tanto alla fine a noi ci brucia sempre il culo. Poi vanno al potere e dicono sempre le stesse cose. Vogliamo un paese più meritocratico? Metteremo il merito al centro del nostro programma? Mentre loro, i politici, guadagnano e prendono i benefici più antimeritocratici in assoluto! Nonostante i danni che fanno, loro prendono lo stipendio più alto al mondo e stanno sempre lì! C'hanno ragione! Loro! È finita la pacchia! Per noi però! Il punto è proprio questo, che ai nostri politici non interessa più l'elettore demotivato. Loro puntano ad ottenere i consensi da quei pochi che vanno a votare promettendogli un tornaconto personale! Perché di quel 40% degli elettori che va ancora a votare c'è una bella fetta a cui non interessa di non fare affondare la barca, ma gli interessa soltanto che quella parte di barca in cui stanno loro sia ancora asciutta. Il problema è che ci scordiamo che quando la barca inizia ad affondare, poi alla fine l'acqua arriva dappertutto!